Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi vi farò vedere una nuovissima mappa che è appena uscita Cioè uscita non so da quando ma è veramente fantastica Dove in questa mappa ci sono tutti i balletti di Fortnite Tutti i balletti OG Il codice lo potete vedere qua è 2 3 2 0 trattino 46 23 trattino 20 73 E' una mappa veramente bellissima Le metti pronto In teoria se questa cosa è vera Dovrebbero esserci tutti i balletti rari di Fortnite Quindi la floss, il loser, tutto quanto Quindi oggi ve la farò vedere Mi raccomando se vi è stato utile lasciate un bel like Iscrivetevi al canale ora 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 E condividete la live con i vostri amici Anche se voi volete provare come avere questi Questi balletti Ok raga non apri Io non apro la schermata dei balletti Io non l'apri e manco trovo Le voglio vedere se veramente ci sono tutti questi balletti rari Io voglio provare assolutamente il loser La floss Ora li proviamo tutti Ma penso che sì Ci sono? Ci sono? Ma intanto mi raccomando raga Lasciate un bel like iscrivetevi al canale Cioè Pronto? 3 2 1 Ci sono? Oddio E sti raga no vabbè Non ci crede c'è Finalmente è il mio ballo preferito Raga guardate Potete Oh vabbè Veramente veramente una cosa Pazzurda Cioè tipo guardate Raga questa mappa è perfetta Tipo trollate un vostro amico che non lo sa Vieni 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 Li fate un 200 No non ho fatto un 200 Fate fare 200 E poi tipo li balli Ragazzi sta perché così fate trollate i vostri amici E fate che tipo avete il loser È troppo bella No ma io sono morta il tutto Ma come? Ah non c'è la rigenerazione Non c'è la rigenerazione Mi sa raga È veramente È veramente una cosa Beh è il loser Guardate Oh però mi serve di ritornare È veramente Cavalca il pony raga È stupendo Guardate potete trollare benissimo i vostri amici Eh guardate io c'è il loser Voi no Quindi mi raccomando Un bel like per nuovissimi video Come questi E noi ci vediamo Alla prossima Scrivete nei commenti Se già questa cosa la sapevate Io no L'ho appena scoperto Ho deciso subito di farci un video Ma come fate a non farci il video su questo? Cioè Mamma mia Veramente Veramente bellissimo ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti